In campo tra le due formazioni, Giovanile Chieti e Virtus Castelfrettano, valevole per il campionato provinciale, Giovanissimi, Girone Chieti. Ecco l'antico. Ecco, i nostri ragazzi vanno a salutare i coetanei della panchina locale e viceversa i locali vanno alla nostra panchina a salutare. Allora, tra poco comincerà la gara Giovanile Chieti, Virtus Castelfrettano, valevole per il campionato provinciale, Giovanissimi, Girone Chieti. Bocca al lupo ragazzi, ecco ragazzi. Le cose che io dico che vanno bene, le cose che invece vanno male.